Mafia confisca da 100 milioni di euro agli eredi dell'imprenditore dire palermitano Francesco Pecora. Sbloccata la spesa regionale, l'assessore all'economia Baccei, una boccata ad ossigeno. ZTL a Palermo, il PD promuove una petizione e un'azione al Taro. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è mercoledì 3 febbraio. Come avete sentito nei titoli, apriamo con la notizia di mafia. Confisca da 100 milioni di euro agli eredi dell'imprenditore edile palermitano Francesco Pecora, morto nel 2011, ritenuto personaggio di spicco di Cosa Nostra. Beni per oltre 100 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Palermo agli eredi dell'imprenditore edile Francesco Pecora, morto a maggio del 2011. Il provvedimento, che riguarda centinaia di immobili, società e conti correnti, è stato messo dal Tribunale di Palermo su proposta del direttore della DIA. Pecora era ritenuto un personaggio di spicco della mafia palermitana ed è stato coimputato in diversi processi, insieme a personaggi di alto spessore criminale, come Pippo Calò, Antonino Rotolo, Tommaso Spadaro e Giuseppe Ficarra. La figlia, Caterina, è invece la moglie di Giovanni Motisi, inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi. Secondo le indagini, l'imprenditore e le sue società svolgevano un ruolo di interfaccia e di canale di collegamento tra la mafia e l'imprenditoria legale, gestendo i capitali illeciti anche fuori dalla Sicilia. Con l'odierno provvedimento sono stati sottoposti a confisca, nello specifico, 168 immobili, 3 società di capitale, 3 società di persone e rapporti bancari. Sbloccata la spesa regionale, l'assessore all'economia Baccei, una boccata d'ossigeno. Sbloccati i fondi per la spesa regionale, dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della legge che autorizza l'esercizio finanziario fino a febbraio. Interi comparti che attendevano da tempo una risposta, ha detto l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei, trovano finalmente una boccata d'ossigeno. Nei prossimi giorni i comuni riceveranno il saldo della parte corrente per l'anno 2015 per 199 milioni di euro e in più la quarta trimestralità 2015, già impegnata sul bilancio 2016, pari a oltre 85 milioni. I liberi consorsi riceveranno il saldo 2015 per circa 19 milioni di euro e inoltre sia i comuni che i liberi consorsi le spese di investimento a saldo 2015 per 145 milioni. Ma anche altri comparti beneficeranno dello sblocco della spesa che nel corso del 2015 non era stato possibile erogare per via dei limiti del patto di stabilità e che adesso potrà essere liquidata in tempi brevi in corrispondenza con le entrate che affluiranno alla cassa regionale. Al sistema dell'istruzione sono destinati circa 50 milioni di euro, di cui 31 milioni per il funzionamento delle scuole. E così anche il sistema dei beni culturali per oltre 13 milioni di euro, quella della famiglia e del lavoro per oltre 46 milioni e oltre 6 milioni per il buono socio-sanitario. Alle infrastrutture sono destinati oltre 215 milioni di euro, al territorio ambiente oltre 101 milioni, al turismo e allo sporto più di 27, all'agricoltura oltre 38, all'assessorato energia 6 milioni e oltre 100 milioni per interventi negli altri settori. Una bottiglia di olio extravergine siciliano portata a Strasburgo nell'aula del Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria come forma di protesta contro l'aumento della quota di olio tunisino senza dassi immessa nel mercato europeo. Il gesto è dell'eurodeputato siciliano del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao. Ascoltiamolo. Potrebbe essere considerata una provocazione quella che ho fatto ieri sera quando ho portato una bella bottiglia di olio extravergine d'oliva che viene prodotto nella nostra terra. Eppure una provocazione non è perché riteniamo che sia assurdo che, a memori dell'esperienza del Trattato Uemarocco e dei danni che ha fatto sul comparto agroalimentare, ancora qui si discute di fare un qualcosa di simile con l'olio d'oliva, quindi aumentando le importazioni senza dassi di 35 mila tonnellate alla Tunisia. Ora, io credo che sia chiaro che un qualcosa del genere non è accettabile, quindi l'appello che facevo ieri con l'olio d'oliva in mano era un appello soprattutto ai deputati dell'area del Mediterraneo, ma ai deputati anche italiani, che quando vengono qui si scordano da dove provengono e si scordano di difendere coloro che ce li mandano. Allora, fino a oggi questa cosa qui non è stata ben chiara, probabilmente la gente non la capiva, non la sapeva. Io con questa provocazione pretendo che gli italiani, i siciliani in particolare, o comunque tutti quelli che producono olio, perché non sono soltanto in Sicilia ma in tutta l'area del Mediterraneo, siano a conoscenza di come vanno realmente le cose e chi vota cosa. A me sembra abbastanza chiaro che più che una questione politica in Sicilia, a parte quello che possono dire i giornali quando riportano i comunicati di quello o quell'altro politico o gruppo politico, in Sicilia c'è una situazione di veramente ingovernabilità dall'inizio di questa legislatura e l'unico filo che tiene in vita un governo totalmente inefficiente è l'attaccamento alla poltrona che accomuna tutti gli esponenti politici di tutti i partiti. Sanno benissimo che con le prossime elezioni da 90 ci si ridurrà a 70 e ognuno dei membri dell'Assemblea regionale è convinto che sarà tra quelli che non verrà più rieletti. Questa è l'unica ragione logica che mantiene in vita un governo inefficiente come il governo Procente. Quando parliamo della programmazione dei fondi europei lì si evince come una delle più grandi promesse elettorali di questo governatore, di questo presidente, è stata totalmente mancata. L'eurodeputato di Forza Italia, Salvo Pogliesi, attacca il governo Crocetta che definisce un assoluto fallimento. Il suo partito è l'unico che fa opposizione al governo Crocetta. La giunta regionale sembrava dovesse cadere qualche mese fa, ma invece gli osservatori e i commentatori ritengono che si arriverà alle prossime elezioni. Voi che ne pensate? Io temo che questa analisi sia assolutamente corretta, non certamente per le capacità di Crocetta, la cui assoluta incapacità politica, amministrativa, culturale è evidente a tutti, ma per l'attaccamento alle poltrone dei parlamentari regionali, nella misura in cui la prossima volta si voterà con un nuovo sistema elettorale che ridurrà il numero dei parlamentari 90-70 con due legislature già concluse in maniera anticipata. Quindi io credo che alla fine prevalga il senso di attaccamento al Parlamento siciliano. Per il resto Crocetta rappresenta un assoluto fallimento. E' l'unico presidente della regione in Sicilia che non ha ormai nessun parlamentare di riferimento, ha perso il proprio gruppo parlamentare che puntualmente marca le distanze rispetto al progetto di Crocetta. E' quello che sta accadendo con le bocciature delle tre riforme che sono state ultimamente varate da parte del Governo centrale, credo che rappresenti il fallimento di questa esperienza governativa. Il giusto processo minorile sta per approdare al Parlamento europeo. Salvino Licasta è intervistata a questo proposito Caterina Chinnici. Abbiamo concluso il 15 di dicembre il trilogo, quindi il negoziato con il Consiglio e con la Commissione, io come Parlamento, come rapporter principale della direttiva. E' concluso il trilogo, il documento è stato votato nuovamente in Commissione Libre circa un mese fa, ancora una volta ha avuto la quasi unanimità e adesso passerà all'approvazione definitiva in plenaria e quindi poi anche il Consiglio, dopodiché sarà legge. A proposito di minori, il tema dei minori non accompagnati, questi bambini purtroppo che arrivano, abbiamo tanti problemi in Sicilia ma in tutta Italia, negli altri paesi d'Europa per dirimere il problema di chi deve occuparsene. Beh, guardi, così come la direttiva che riguarda il giusto processo minorile, come lei ha detto, e cioè una serie di garanzie procedurali, ma prevede un'attenzione specifica alla tutela dei diritti del minore, così allo stesso modo io sto dedicando con il mio lavoro una tutela specifica a quei minori che arrivano sul nostro territorio e che arrivano da soli e che quindi necessitano di una specifica attenzione, di una specifica tutela fin dal primo momento in cui arrivano, quindi accoglienza, quindi sostegno, quindi accompagnamento. E allora su questo abbiamo a Padermo presentato un primo documento che vuole essere proprio l'avvio di un sistema di tutela effettivamente efficace nei confronti dei minori non accompagnati. Questo documento contiene, diciamo, 10 regole, se così le vogliamo chiamare, un decalogo di regole da attivare immediatamente per fornire sostegno, supporto e tutela a tutti i minori che arrivano sul nostro territorio. Violenza sulle donne, peditamenti e stalking, questo è il tema del seminario rivolto agli studenti del liceo Danilo Dolci di Villa Abate, ma aperto anche a tutta la cittadinanza che si è svolto ieri alla biblioteca comunale Edoardo Salmeri. La cultura del rispetto della donna e in generale dell'essere umano si forma anche e soprattutto attraverso queste iniziative, nei luoghi di conoscenza, nelle scuole, nelle famiglie, ma in queste occasioni di incontro in cui le figure professionali, e qua abbiamo cercato di coprire i vari ambiti che entrano in gioco quando si affrontano queste tematiche, tutte le figure deputate a vario titolo di attivarsi a tutela offrono un contributo, ma soprattutto offrono ai ragazzi informazioni e conoscenze su cui certamente elaborare dei pensieri. L'occasione è stata quella di parlare di stalking, di violenza sulle donne, è stata un'occasione di incontro con una scuola perché, come abbiamo detto durante il dibattito, è più importante, è importante sicuramente reprimere queste condotte dal punto di vista penale, però è importante prevenirle, quindi attraverso un'educazione antimaschilista nelle scuole diciamo si fa opera di prevenzione. Abbiamo desiderato dedicare una giornata alla sensibilizzazione dei ragazzi, del Danilo Dolci, che è prettamente ad utenza femminile, sulla tematica dei maltrattamenti sulle donne, in particolare dello stalking. Sono intervenuti appunto delle personalità di rilievo. È un'occasione di parlare per legalità, però in questo benedetto comune si dovrebbe molto più spesso parlare di legalità e non soffermarci allo stalking, perché ci sono tante altre situazioni, non dico criminali, ma i limiti della criminalità che veramente fanno guastare quello che è il senso di vivere in questo paese. Noi abbiamo atti vandalici in tutti i sensi che stiamo cercando di combattere, però la collaborazione della popolazione in questo senso è molto essenziale. La violenza sulle donne è un tema centrale ed è un tema culturale al quale le giovani generazioni devono essere sensibilizzate, aiutate a comprendere, per migliorare, perché se questi problemi li risolvono, noi li possiamo tentare di risolvere, ma la risoluzione finale spetta alle giovani generazioni, aiutare a capire, a migliorarsi, a comprendere queste dinamiche, per me è fondamentale. E Villabate, l'amministrazione, oggi ha fatto un grosso passo in avanti per la sua cittadinanza. Le zone a traffico limitata a Palermo, nonostante le tante polemiche, saranno presto una realtà, ma il PD ha promosso una petizione, un'azione al TAR. Ascoltiamo il consigliere comunale, vicepresidente Vicario del Consiglio, Nadia Spallitta. Abbiamo promosso una petizione, che è una valenza politica, e anche un'azione giurisdizionale, come è successo anche anni fa. Il TAR in passato aveva già annullato le zone a traffico limitato, ritenendole illegittime per una serie di profili, che permangono ancora oggi, per cui auspichiamo che ancora una volta la magistratura amministrativa possa sospendere questo provvedimento che noi riteniamo illegittimo. Ma stiamo anche agendo sotto il profilo prettamente politico. Abbiamo portato conferenza dei capigruppo all'interno quindi del Consiglio Comunale, delle proposte alternative alle attuali zone a traffico limitato, proposte che in parte sono condivise anche da altre forze politiche, per cui nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri anche con l'assessore, per cercare di correggere quantomeno le criticità più gravi che riguardano la mancanza di fasce orarie, il pagamento indiscriminato per tutti, vi compresi invalidi e residenti, la mancanza di un effettivo rapporto tra capacità di inquinare e costo del transito. Quindi proporremo una serie di correttivi, cercando di ottenere quantomeno un risultato positivo per evitare una oltreforma di tassazione ingiusta e ingiustificata e che sicuramente non determinerà il minore inquinamento cittadino. E' morta a Bagheria all'età di 91 anni, Filippo Lomedico, il suo nome in città era legato alla cinema. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo di Via Dante. Primo ginnasio, 1935, 10 anni, professoressa Bisante, assegnò un compito, il mio migliore amico. E io scrivo che il mio migliore amico è il cinematografico. Il cognome Lomedico a Bagheria si coniuga con una sola parola, cinema. Cinema nel senso di locali cinematografici. Il padre aveva aperto una sala nel 1927, Filippo diventò gestore del cinema a 16 anni con i suoi due fratelli. Dopo il Littorio, quindi ribattezzato Vittoria, dopo la caduta del fascismo, venne il cinema nazionale in corso Umberto e il nuovo nazionale negli anni 70. Filippo Lomedico era un uomo che della sobrietà, della discrezione e della modestia fece la sua religione. Anche per suo tramite è prese vita l'idea della pinacoteca di Villa Cattolica. La storia è semplice. Enrico Carollo, affermato gallerista a Roma e amico fraterno di Guttuso, sin dagli anni 30 era il suocero di Filippo Lomedico. E' questa la strada che verrà percorsa per convincere Guttuso a fare nel 1973 la prima donazione che avvia l'odierna galleria. E' Filippo Lomedico in questo progetto in prima fila per incoraggiarlo e sostenerlo appassionato come era di cose d'arte. Sino alla generosa donazione fatta assieme ai fratelli Giovanni ed Enzo circa dieci anni fa al Museo Guttuso di quel patrimonio di locandine e manifesti cinematografici che sono, è vero, un prodotto di nicchia, ma che opportunamente valorizzati potrebbero attrarre studiosi e appassionati di cinema. A Cefalù lo storico villaggio Club Med tornerà a risplendere al Via un maxi investimento che permetterà alla struttura di diventare lussuoso Cinque Tridenti. Ascoltiamo il sindaco Rosario Lapunzina. Il Club Med ha fatto la fortuna anche di Cefalù perché il turismo a Cefalù è nato con il Club Med nel 1951 e Cefalù è conosciuto anche nel mondo grazie al Club Med. Dal 2005 questo villaggio è chiuso anche perché era un villaggio proiettato per i giovani. Invece oggi si ripresenta con un investimento di 75 milioni di euro per una risrutturazione che vedrà un villaggio a cinque tridenti. Una cosa molto importante per Cefalù. ha avuto tutti i pareri da parte della sovrintendenza da parte della Stato territorio ambiente e fra un mese inizieranno i lavori. Per noi è veramente un motivo di grande soddisfazione che il Club Med torna a risplendere in un promontorio che è il promontorio più bello di Cefalù. Sono previsti due anni di lavoro per cui già nella stagione del 2018 il Club potrebbe tornare a risplendere e a far conoscere Cefalù in tutto il mondo. Ci sono stati dei progettisti molto bravi i progettisti King Rosselli di Roma che hanno calato proprio questo nuovo villaggio questa ristrutturazione all'interno di questo promontorio dal mare non si verrà quasi nulla e per cui è rispettato l'ambiente rispettato un luogo che è un luogo bellissimo per chi lo conosce e proprio dal promontorio di Santa Lucia si vede un programma stupendo che poi è la nostra Cefalù che è proprio circondata dalla rocca. Cefalù è evidente che sta lavorando attorno al riconoscimento UNESCO quello che noi abbiamo avuto il 3 luglio che è un punto di partenza per cui l'UNESCO ci ha proiettato in tutto il mondo ed è importante, è una grande responsabilità per cui noi stiamo lavorando per creare condizioni di vivibilità migliori a partire dall'illuminazione a LED in tutta la città 2.994 punti luce saranno tutti sostituiti a LED e poi stiamo lavorando affinché il nostro centro storico sia più rispettato con i varchi elettronici affinché proprio tutto il centro storico sia vivibile per i cittadini che lo abitano però non sia violentato tutti i giorni da chi non ha nulla a che fare e andarci con la macchina Sarà inaugurata questa sera la stagione sinfonica del Teatro Massimo di Palermo Sinfonie e scene dalla Trilogia Tudor di Gaetano Donizetti Parte questa sera la stagione sinfonica del Teatro Massimo di Palermo L'appuntamento è alle 20.30 con il grande soprano Mariella De Via e il grande Couturì Emanuele Ungaro che vanno in scena con la Trilogia Tudor di Gaetano Donizetti Tre opere basate su tre personaggi femminili alla corte d'Inghilterra ma in realtà interamente centrate su Elisabetta I In Anna Bolena si narrano le vicende dei genitori di Elisabetta Anna Bolena condannata al patibolo per tradimento ed Enrico VIII Segue poi l'opera in cui avviene l'acceso confronto tra Elisabetta e la rivale Maria Stuarda, la cugina alla quale le oppone tutto Infine Roberto De Vero dove protagonista un'Elisabetta invecchiata ma sempre capace di grandi passioni e scatti d'ira fino alla rinuncia finale alla vita e al trono A impersonarli sarà proprio Mariella De Via interprete da oltre 40 anni dei più grandi personaggi femminili nella storia dell'opera lirica Straordinaria vocalità ed eccezionale forza interpretativa La De Via ha debuttato nel 1973 segnando un punto d'arrivo difficilmente superabile nella storia del bel canto come l'è stato riconosciuto dal pubblico e dalla critica nei più importanti teatri del mondo Il suo vasto repertorio le attributo consensi critici e il favore del pubblico che le ha sempre riservato un'accogliente entusiasmante A firmare gli abiti di scena sarà Emanuele Ungarò nato in una modesta famiglia di immigrati italiani Ungarò aprende i rudimenti del mestiere del sarto con il padre per poi partire alla ricerca della propria libertà espressiva a Parigi Nel 1965 crea la marca con il suo nome e apre una maison nel negozio principale sull'avenue Montaigne Oggi tiene conferenze e crea costumi in diversi teatri d'opera Nel 2011, ad esempio, ha realizzato i costumi per Seminarid e nel 2015 il Carmina Burana per il Teatro dell'Opera di Roma Ed è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti